Ciao a tutti voi da Rosi, benvenuti all'appuntamento con la nostra vetrina dell'auto in compagnia di Rezzonico Auto qui comodamente seduti in questo salotto, parliamo di concessionari a opera, ne parleremo con Alessandro che saluto e naturalmente con Vittorio Rezzonico. Buonasera anche da parte mia, ma Rosi perché siamo seduti qua? Per dirvi prendetevela comoda perché la serata è lunga e sono offerte veramente pazzesche abbiamo incentivi statali per tutti i gusti e soprattutto veramente offerte per tutti vogliamo andarvi in vacanza con la vostra nuova Opel per cui state lì perché Alessandro vi presenterà delle offerte da non perdere, anzi da prendere al volo noi ci vediamo dopo per i saluti finali. E se si parla di incentivi non si può che partire da lei, dalla fantastica nuova Opel Corsa in questo caso un allestimento GS completo di tutto cerchi in lega diamantati, fare a led autoadattativi con abbagliante automatico sensori di parcheggio davanti e dietro, la retrocamera display touch con CarPlay Android Auto senza la necessità di collegare il vostro cavetto ma con solo la connettività Bluetooth comando e multifunzione al volante, radio Bluetooth con cruise control e limitatore di velocità versione disponibile in molti colori e sempre con il tetto nero a contrasto sedile avvolgente in tessuto misto pelle, il bracciolo, insomma una vettura completa davvero di tutto di disponibilità non solo di tutte le versioni ma anche di tutti i motori a partire dal 1.2 benzina da 75 cavalli o il turbo benzina da 100 cavalli disponibile anche con il cambio automatico la nuovissima Hybrid disponibile in pronta consegna anche chilometro zero ma lo vedremo dopo e la versione completamente elettrica in due potenze la 136 cavalli e la 156 cavalli oltre 300 e oltre 400 chilometri di autonomia rispettivamente vetture disponibili in pronta consegna da venire a vedere e provare come con la possibilità di accedere al nostro nuovissimo finanziamento a tasso zero avete capito bene l'elettrico è a tasso zero quindi accessibile per tutti e se parliamo di elettrico oltre al tasso zero non possiamo dimenticarci anche dei fantastici vantaggi che ci può dare la guida di una vettura completamente elettrica quindi zero bollo si entra nelle zone a traffico limitato senza alcun problema strisce blu completamente gratuite e Opel Rezzonico Auto vi dà anche la colonnina in omaggio quindi con una vettura completamente elettrica come Corsa potete avere la vostra colonnina di ricarica direttamente a casa con un supplemento di zero euro ve la regaliamo noi da Corsa a Crossland il passo è brevissimo perché da 99 passiamo a 109 euro al mese e Opel Crossland è tua con un motore 1200 turbo benzina da 100 cavalli vettura spaziosissima 4 metri e 21 stanno arrivando le vacanze e ce le abbiamo in casa in pronta consegna se la vostra auto comincia a tossicchiare un po' non c'è problema perché abbiamo la vettura che fa il caso vostro disponibilità anche di diversi colori e diversi motori oltre al turbo benzina manuale c'è anche l'automatico vetture che abbiamo da provare semplicemente per capire qual è quella che fa più al caso nostro e sono tutte ripeto disponibili in pronta consegna come in questo caso una bellissima Elegance con navigatore con i cerchi in lega da 17 pollici il climatizzatore elettronico bizona, la retrocamera, i sensori di parcheggio, i comandi al volante per la radio, per il bluetooth, i fari a led l'anticollisione, il mantenimento di carreggiata è tutto già di serie una vettura completa, ideale ripeto per le famiglie e con ottimi spazi quindi un ottimo bagagliaio per le vacanze venite a trovarci presso tutti i nostri saloni a Cerro Maggiore, ad Arconate e qui a Saronno ma non è abbastanza grossa la Crossland? benissimo, nessun problema perché abbiamo a disposizione anche Grandland disponibilità di diversi motori con Grandland perché si parte con il 1.2 benzina da 130 CV con cambio manuale e cambio automatico la versione turbodiesel che non consuma niente oltre i 20 km con un litro motore 1.5, 130 CV con cambio automatico il nuovissimo Hybrid da 136 CV con il cambio a doppia frizione un motore da provare e non dimentichiamoci ovviamente del plug-in 225 CV per la trazione anteriore e 300 CV per la trazione integrale un 4x4 davvero potente bello da guidare, bello da provare disponibilità anche in questo caso in pronta consegna di tutti gli allestimenti e di tutte le motorizzazioni ovviamente Opel Grandland ha delle promozioni fantastiche perché può essere tua da soli 24.200 euro e con rate da 149 euro al mese non vi resta che venire a provarle e a trovare la vostra soluzione ideale e da Grandland passiamo a Mokka la fantastica, anzi il fantastico Mokka perché parliamo di un SUV ancora di 4,15 m con tutto già di serie fare a led, volante in pelle con comandi radio, bluetooth, cruise control con limitatore di velocità radio touchscreen da 7 pollici con la connettività Apple CarPlay ed Android Auto il bracciolo già di serie, la seduta avvolgente, il richiamo sportivo, le finiture rosse come in questo dettaglio i cerchi maggiorati da 18 pollici stiamo parlando di una vettura veramente completa di tutto vettura che può essere tua grazie agli incentivi statali a soli 17.200 euro e con una rata mensile di 119 euro al mese ne abbiamo in casa come in questo caso diverse versioni e diversi colori come questi due allestimenti GS simili ma allo stesso tempo diversi tra di loro in questo caso questa rossa con i cerchi in lega da 17 pollici dedicati, neri sensori di parcheggio anteriori, posteriori, la retrocamera il climatizzatore elettronico, il freno a mano elettronico è una vettura davvero completa di tutto le motorizzazioni disponibili 1.200 da 100 cavalli con cambio manuale o 136 sempre ed entrambi turbo benzina disponibile anche il cambio automatico ovviamente da 130 cavalli a 8 rapporti e disponibilità immediata anche delle versioni hybrid perché anche su Mocca è arrivato finalmente il motore hybrid da 136 cavalli con il cambio automatico a doppia frizione ma non dimentichiamoci di lei la versione completamente elettrica anche in questo caso solo da Opel Rezionico Auto avete ancora la colonnina completamente in omaggio quindi con la sottoscrizione di un contratto oltre all'accesso a tutti i vantaggi che abbiamo visto prima con la Opel Corsa, Mocca può essere tua con il tasso 0 e con la colonnina di ricarica gratuitamente a casa vostra e passiamo ora all'Astra versione 5 porte o versione Sport Tourer le novità di questo inizio di 2024 vettura disponibile con diverse motorizzazioni benzina, l'hybrid anche qua il plug-in hybrid quindi la mobilità è disponibile per tutti il motore turbodiesel con 130 cavalli al cambio automatico a 8 rapporti e la versione full electric disponibile ripeto sia sulla versione 5 porte sia sulla versione Sport Tourer una vettura davvero fantastica Opel Astra è tua a partire da 18.600 euro con una quota mensile di 129 euro al mese avete capito bene? questa fantastica Opel Astra 5 porte può essere tua a soli 18.600 euro una vettura che presenta di serie tutto quanto perché? perché abbiamo già di serie i fari a led il climatizzatore elettronico i comandi al volante radio, bluetooth, cruise control limitatori di velocità volante in pelle sedile in tessuto misto pelle è davvero una vettura completa di tutto non vi resta che venire a trovarci in tutte le nostre filiali se preferite possiamo anche fissarci un appuntamento con il numero che trovate in sovraimpressione anche tramite Whatsapp e fisseremo anche il vostro test drive in modo da venire e provarle liberamente e tranquillamente vi aspettiamo e abbiamo iniziato la trasmissione parlando di incentivi statali e gli incentivi statali ci sono anche sulle vetture immatricolate quindi come queste fantastiche chilometro zero a partire da corsa con disponibilità anche qui immediata sia sulle motorizzazioni benzina 75 cavalli, 100 cavalli e le versioni hybrid disponibili in casa ed in pronta consegna così come Mokka disponibili con tutte le sue motorizzazioni 1.2, benzina 100-136 cavalli o le versioni automatiche da 130 cavalli passando poi a tutto il resto della gamma sia termica sia elettrica vi ricordo che da Rezzonico Auto trovate anche le chilometro zero di tutti i marchi perché siamo concessionario ufficiale Spoticar quindi sia il nostro marchio Fiat sia Citroen sia Peugeot e tutto quanto il gruppo Stellantis tutte disponibili immediatamente e quindi non vi resta che venire a trovarci per trovare la vostra nuova vettura vi ricordo che il nostro concessionario Opel Rezzonico Auto è anche free to move quindi per tutte le vostre auto che vi servono anche semplicemente per un giorno, una settimana o un mese avrete la possibilità di noleggiarla per un breve periodo di tempo non vi resta che venire a trovarci ma Opel Rezzonico Auto è anche Opel Business Center di conseguenza tutti i veicoli commerciali del marchio Opel disponibili in casa in pronta consegna come questi bellissimi nuovi Combo Life disponibili sia benzina che diesel con la possibilità di essere trasformati anche vetture quindi non spaventiamoci di questo sono vostri a chilometro zero a partire da 26.000 euro disponibilità immediata e con moltissimi colori a disposizione senza dimenticarci anche ovviamente della versione cargo disponibili con due e tre posti passando poi a Vivaro e Movano come vedete tantissime conformazioni possibili tutte in casa in pronta consegna tutti con disponibilità immediata non c'è la configurazione che vi serve nessun problema Opel Rezzonico Auto ha a disposizione i telai possiamo costruire quello che vogliamo e disponibilità immediata per ogni dimensione anche su questi ma non dimentichiamoci che tutti i vostri furgoni possono essere allestiti con qualsiasi cassettiera o rivestimento di vostra necessità venite a trovarci e nel ricordarvi che Rezzonico Auto è concessionaria ufficiale Opel a Saronno, Cerro Maggiore ed Arconate vi aspettiamo per cogliere al volo l'opportunità degli incentivi statali che ricordo vi garantiamo grazie ancora buona serata ciao a tutti